Imbarazzo è mai questo, un foglio anonimo, la cameriera e il gabinetto chiusa, la padrona confusa, un uom che salta dal balcone in giardino, un altro appresso, che ti c'è resto quel d'esso, non so cosa a pensare. Signor! Oso frumate! Mi spero che siete in colera. Volete qualche cosa? Signor, la vostra sposa ha i soliti vapori e vi chiede al fieschetto degli odori. Prendete! Ormè lo riporto! E no, potete ritenerlo per voi. Per me? Questi non sono mali, detto addoni triviali. Un amante che per il caro sposo sul putto d'antenello, pagando Marcellina con la tante, che voi mi prometteste. Lo vi promissi quando? Crede ad ad uno inteso. Sì, se volute avveste intenderle voi stessa, è il mio dovere, è quel di sua cerenza, è il mio volere. Signor, la good name amore, voglio dici il tuo cuore. Signor che quedeough mi amore. Signor, la good name amore, voglio dirtוגne. Sì, sì, tu in giardin verrai, se piace a lui, e non mi mancherai, non mi mancherò. Sì, sì, non mi mancherò, non mi mancherò, non mi mancherò. Mi sento dal contento, pieno di gioia in cuore. Mi sento dal contento, pieno di gioia in cuore. Dunque in giardin verrai, se piace a lui, e non mi mancherai, non mi mancherò. Sì, non mi mancherai, se piace a lui, e non mi mancherai, se piace a lui, e non mi mancherai. Grazie a tutti. 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 Sua madre... Cosa sento? Il suo padre... 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 E quella mia madre che a te lo dirà, che a te lo dirà, mia madre che a te lo dirà, mio padre che a te lo dirà. La mia madre che a te lo dirà, mio padre 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 che a te lo Grazie a tutti. 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 Andiamo, 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 Grazie a tutti. Andiamo, 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 Su, andiamo, 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 Su, Andiamo, 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 E Andiamo, Thank you, Andiamo, Thank you all so much For joining us this evening This little production of ours Is truly, truly a labor of love And so we would like I would like personally To thank Baker And to thank the whole cast and to thank the church in which we stand and also especially we put on a version of this show in 2019 a couple of months it was November of 2019 and then the whole world changed and a lot of us have been kind of riding on this memory for the last four years and it's such a joy to bring it back with some of the same cast and some different cast and I particularly want to thank in this age of COVID we have to be so much more careful anytime anyone gets sick and so in the last week we have added Sonia and Mike they have just absolutely knocked it out of the park with three rehearsals and I also want to thank in absentia Michelle and Eric both of whom were going to be part of this show but because we have been trying to be very careful and keep everyone very safe they are not with us this evening although they are still with us and so with that thank you, thank you, thank you it's a real joy to be able to do this for you again and please join us in the reception room just over there for some middle 10, 10, 10, 10.30 and then refreshments we're going to let Rose stop talking and thank you we're going to let Rose do this for you we're going to let Rose do this for you we're going to let Rose do this for you we're going to let Rose do this for you we're going to let Rose do this for you we're going to let Rose do this for you we're going to let Rose do this for you Grazie a tutti.